Siamo con Max Gazzetto e torni sul palco di Arezzo Wave, Arezzo Wave molto ridimensionato però ti scegli adesso in conferenza che è comunque una gioia essere ad Arezzo Wave. Sì, è un festival che è sempre il primo d'occhio in questi ultimi decenni e ha un po' di tutte le difficoltà che ha portato per poter non resistere e sono molto felice di tornarci, quindi faccio anche qualcuno che è stato ridimensionato nei costi, nelle cose a po' di importanza perché per me è il senso che è stato sul palco di Arezzo Wave, è il senso che è stato ridimensionato. E' particolare quindi il posto, nonostante tu venite da una torna europea che ti sta impegnando per diversi mesi però comunque sia Arezzo Wave proprio in questo particolare per conto suo. Sì, sì, è un'altra storia, è un'altra tradizione, ha rappresentato il meglio della musica rock italiana di 10 anni, continuo a avere dei legami con quante altre realtà a testo e è un'altra tradizione che ho fatto ancora oggi la musica anche di seguire i ragazzi, di seguire i giorni. Per me è una realtà importante che fa, se non, è un'altra cosa che si fa anche per questo. Grazie a tutti.